Su greenbiz.it siamo con Francesco Ferrante, vicepresidente del Chioto Club, per parlare dell'ennesimo attacco al settore delle rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, che sarebbe il settore più colpito. Ci riferiamo allo spalma incentivi inserito nella famosa norma del taglio del 10% delle bollette per le PMI. Mancano poche ore. Cosa ci aspetta? Intanto è frustrante dover ancora commentare un attacco alle rinnovabili. Sono passati ormai quattro giorni, non dall'annuncio del provvedimento che si sarebbe preso un provvedimento, perché quello che si sarebbe preso un provvedimento risale alla prima conferenza stampa di Matteo Renzi a Palazzo Chigi una volta diventato Premier. Quindi l'annuncio è già di tre mesi fa. No, quattro giorni fa è stato annunciato che era stato fatto un provvedimento per tagliare le bollette all'interno delle quali, per raccogliere la metà delle risorse che servivano a questo taglio a bollette per le piccole e medie imprese, in totale di circa un miliardo e quattro, la metà di quei soldi venivano da un intervento retroattivo sugli incentivi delle rinnovabili. Dopo quattro giorni, lei ha detto che mancano poche ore, auguriamoci che mancano poche ore alla lettura del provvedimento, alcuni dicono che dovremmo aspettare altri tre giorni, comunque quel testo non c'è. Un testo fantasma appunto. Un testo fantasma. Le ultime voci dicono di una riduzione dell'intervento sulle rinnovabili da 700 a 300 milioni. Resta la mia curiosità di capire che se tolgono soltanto 300 milioni alle rinnovabili come fanno ad arrivare al miliardo e quattro promesso di sconto alle piccole e medie imprese, ma soprattutto non si capiscono due cose. Primo, questo taglio alle bollette delle piccole e medie imprese è utile? Io rispondo con i numeri. È utile soltanto per quelle imprese in cui il costo dell'energia elettrica ha un peso significativo e rilevante sui ricavi. Ora, siccome soltanto il 3% delle nostre piccole e medie imprese ha un peso rilevante oltre il 3% dei ricavi, onestamente sarebbe stato più interessante e intelligente fare dei provvedimenti, gli strumenti già esistono a livello italiano e europeo, per favorire coloro che appunto devono sostenere un peso dell'elettricità troppo alto rispetto ai loro ricavi, quindi con classi di consumo su ben determinati settori. Si poteva fare semplicemente senza inventarsi tutto questo ambaradano. E l'altra è ancora sulle rinnovabili. Guardate che nell'ultimo anno, l'ha calcolato a sulle rinnovabili, perché sono quelli colpiti, diciamo, sono il sindacato di quelli che sono colpiti, quindi anni e numeri. Nell'ultimo anno sono stati fatti una serie di interventi, dalla Robin Hood Tax per le rinnovabili al prelievo Imo e quant'altro. Sono stati contati ben otto. Esatto, che per cui c'è stato un intervento di circa un miliardo che devono pagare quelli che sono i proprietari degli impianti rinnovabili. Perché insistere con la retroattività, esponendosi a una serie di ricorsi, perché già tutti dicono che è una cosa che è evidentemente incostituzionale, ha detto anche il Presidente Merito Onida, non ha senso, non serve. È vero che ci sono stati degli speculatori che hanno utilizzato incentivi che per un periodo sono stati troppo alti, ma quegli speculatori sono già andati via, sono già scappati, non li prendi più, i buoi sono ormai usciti dalle stalle. Allora sarebbe molto più interessante prendere atto che con quegli incentivi si è raggiunta una percentuale molto alta di rinnovabili della produzione dell'elettricità e ora lavorare sul termico, sugli accumuli, sulle reti intelligenti per lavorare per il futuro. Così ci mettiamo in regola con l'Europa, diventiamo leader in Europa insieme alla Germania e forse anche nel mondo e diamo sviluppo a un settore che ha molta, molta rilevanza. Inizialmente la norma doveva prevedere degli interventi non solo sulle rinnovabili, ma anche su altri balzelli che ben conosciamo. Silvia Velo ha di recente fatto una dichiarazione ribadendo che ci sarà un intervento anche sugli energivori. Le bozze però che circolano dicono il contrario. Ci si chiede chi è il mandante, perché poi è questa la domanda che emerge con forza dagli operatori del settore. Siamo sempre alle solite? Io penso che ci sia soprattutto un meccanismo, come dire, culturale addirittura, di incapacità di capire il futuro. Ci sono dei cambiamenti in corso. Il nuovo amministratore delegato dell'Enel ha una posizione molto diversa rispetto a questi temi, rispetto al precedente. Ma è come se chi dovesse fare le politiche all'interno del governo è rimasto invece con lo sguardo rivolto al passato e non capisce che c'è un futuro già in essere, già in campo. Allora questa strada andrebbe invece imboccata rapidamente. Si parla tanto di cambiare verso, temo che su questo Matteo Renzi non stia cambiando verso. Ma c'è stato un problema di comunicazione. Perché le istituzioni hanno, l'abbiamo sentito alla conferenza stampa di Astro Rinnovabili proprio ieri, hanno chiuso la porta, perché poi alla fine possiamo dirlo placidamente, hanno fatto delle proposte che non sono state valutate, proposte alternative a un'ammazza rinnovabili. Perché il Ministero dello Sviluppo Economico è governato da un ministro che risponde soltanto a Confindustria, a Confindustria appunto è su una posizione arretrata, vorrebbe che l'Italia prendesse una posizione arretrata anche in Europa rispetto agli obiettivi. E questo è il meccanismo di respinta di proposte che io ritengo potrebbero essere invece raccolte con saggezza, è chiaro che venivano da una parte e che un governo serio avrebbe dovuto prendere l'esame per trovare il punto di equilibrio più corretto. Un'ultima domanda riguarda la comunicazione. È possibile oggi che gli operatori delle rinnovabili si ritrovino per l'ennesima volta a dover comprare degli spazi sui giornali per far sentire la propria voce? Perché è quello che è successo con Astro Rinnovabili che ha lanciato una campagna a salvare le rinnovabili anche sui maggiori quotidiani. È questo il modo di comunicare? Astro Rinnovabili fa il suo mestiere di sindacato delle imprese che hanno investito in questo settore. Io credo che ci sia uno scarto molto importante tra la percezione dei cittadini e dei media generalisti, se vuole, che hanno un atteggiamento positivo per le rinnovabili. È evidente che un'energia pulita, diffusa, non può che avere una percezione positiva da parte del cittadino. E poi invece una differenza molto forte sulle pagine economiche dei giornali che sono in mano e che risentono di quei poteri antichi che qui facciamo prima riferimento, che invece sono protagonisti della campagna mediatica contro le rinnovabili. Grazie Ferrante per ora è tutto. Grazie.